Sono passati quasi due anni da quando la tempesta Vaia si è abbattuta sulla montagna Veneta portando una distruzione che in molte zone è ancora ben visibile. È il caso della Marcesina e dell'altopiano di Asiago in generale dove ci sono alcune aree in cui il legname da portare via è ancora tanto. C'è il problema degli alberi, prima si è intervenuti o sono intervenuti direttamente anche i comuni o anche le proprietà private, penso anche quelle collettive, le regole eccetera per togliere gli alberi laddove si poteva togliere. Poi passando il tempo anche il materiale si deperisce e quindi diventa meno appetibile oppure più difficilmente raggiungibile ma il problema c'è ancora. Se ne è parlato nel corso di una riunione tenuta sia a Enego alla quale hanno partecipato amministratori e tecnici per fare il punto su soluzioni e piani di battaglia. Laddove era possibile intervenire e il materiale era appetibile si è già intervenuto. C'è poi il tema dei siti valanghivi che si può rimuovere l'albero schiantato solo nel momento in cui si parte con la realizzazione dei nuovi paravalanghe perché l'albero schiantato funge da paravalanga naturale e poi c'è il terzo aspetto che è quello più delicato del legno che non è appetibile che è schiantato che comunque va rimosso e quindi che necessita però di un intervento finanziario per agevolare la cosa. Ecco su questo siamo concentrati sia nel alto piano di Eseago ma anche in tutte le altre aree per cercare di verificare a quanto ammonta questo denaro per poi dopo fare un piano insieme agli amministratori locali. Resta da capire quali siano le tempistiche per la soluzione definitiva del problema. La scadenza, l'abbiamo detto fin da subito, è la più breve possibile. Ovviamente ci siamo dati delle priorità. Quando c'è stata vaia tutta l'attenzione era concentrata sugli alberi schiantati perché era la cosa più visibile. Io ho sempre detto, se guardate le registrazioni, l'ho sempre detto prima si interviene nell'ambito idraulico perché lì è a rischio la incolumità pubblica quindi arginature, briglie, consolidamenti di argini, pulizia dei corsi d'acqua quindi quella era la priorità assoluta. E rimane anche un grande punto interrogativo sulle aree soggette solitamente a valanghe e slavine il cui assetto potrebbe essere radicalmente cambiato dopo la rimozione degli alberi schiantati. Dopodiché c'era il grande tema dei siti valanghivi oltre 100 nuovi siti valanghivi che si sono generati e che mettono a rischio abitazioni piuttosto che viabilità e proprio su questo abbiamo fatto un piano, un mega piano, un nuovo piano di protezione civile condiviso con i sindaci perché qualora non fossimo arrivati prima a rimuovere gli alberi e a creare i paravalanghe sarebbe stato necessario adottare questo piano e infatti così è stato.